L'Istituto Battisti non ha più i numeri per conservare l'autonomia scolastica già da quest'anno, visto che gli iscritti effettivi non sono 602 ma 580. Il CPA, il Centro Interprovinciale Istruzione Adulti, ci ha infatti comunicato che a frequentare i corsi serali sono 17 persone da loro iscritte alla classe e autorizzate e non 39 come afferma l'Istituto. Sommando ai 563 allievi dei corsi ordinari, i 17 dei serali, arriviamo così a 580. Con questo comunicato diffuso alla stampa questa mattina, il Presidente della provincia, Daniele Tagliolini, mette i puntini sulle I sul caso Battisti. I numeri dell'organico si fanno ovviamente a febbraio e poi successivamente a maggio. In quella data gli studenti del Battisti risultavano essere più di 600, di cui 40 del Sala, a cui fa riferimento appunto il comunicato di Tagliolini. Di questi 40, 18 ragazzi hanno iscritti in quinta e noi abbiamo chiesto l'autorizzazione per l'apertura di una classe quinta e questa ci è stata già autorizzata durante l'estate. Mentre per gli altri ragazzi abbiamo dovuto attendere settembre, quindi l'altra ventina di ragazzi, abbiamo dovuto attendere settembre gli incontri che si sono stati al CPA di Ancona, che sarebbe l'istituzione che segue il corso per gli adulti della provincia di Ancona e di Pesaro per vedere cosa fare degli altri 22 ragazzi. Alla fine di settembre abbiamo dovuto chiamare tutti gli iscritti che avevamo, 22 ragazzi, e dire loro guardate che il CPA non ci autorizza l'apertura di altre classi, non ci autorizza neanche la possibilità di fare una pluriclasse, cosa che si faceva negli anni precedenti. Quindi in realtà non erano ragazzi che non esistevano, ragazzi a cui noi abbiamo potuto offrire l'offerta formativa perché non ce l'hanno data la possibilità. Io sono convinto che l'accorpamento non porterà vantaggi all'istituzione scolastica, anche perché si crea un unico pollo molto grande, dislocato in tanti plessi, e che non porta nessun vantaggio. Non è che ci è stata offerta la possibilità di costruire una nuova scuola in cui si possa fare economia di rete, cioè impianti sportivi comuni, all'amagna comune, laboratori comuni. Quello che ci è stato offerto è semplicemente l'aggregazione con un altro istituto in cui ognuno mantiene la propria autonomia. Quindi è solo una difficoltà di gestione, non c'è nessun vantaggio. Ma il corpo docente e gli studenti non sono affatto d'accordo e non gettano la spugna e non si danno per vinti. Forti delle firme raccolte in questi giorni che presenteranno in regione e dell'assist che ieri gli ha tirato il consigliere regionale Mirko Carloni che ha denunciato una disparità di trattamento di Fano rispetto ad altre città delle Marche e presentato a questo proposito un ammendamento in regione. In quattro giorni abbiamo raccolto più di 700 firme. Noi contiamo di inviarle in regione affinché possibilmente blocchi il provvedimento proposto dalla provincia proprio per cercare soluzioni nuove per il territorio fanese. Non sto parlando solo del Battisti, ma di tutto il territorio fanese. Non è possibile che la terza città delle Marche abbia solo tre autonomie, cioè basta guardarsi in giro.